E' praticamente uno stallo messicano, ovvero ciascuno è nel mirino di qualcun altro e nessuno osa fare la prima mossa per paura che inizi la sparatoria e si concluda con una carneficina. In metafora, politicamente parlando, questa è la situazione a Bassano per la corsa a sindaco. E' vero che il centrodestra ha di fatto scelto Elena Pavan e che il centrosinistra ha deciso per Angelo Vernillo, ma entrambi i candidati, che sono presentati come figure di sintesi dalle rispettive coalizioni, sono meno radicati di quanto si pensi. L'avvocato Pavan perché appare come imposta con la forza della Lega Ruggente di questo periodo e Vernillo perché ha furia di voler accontentare i centristi che poi va a chipire chi sono, quanti sono e se ci sono ancora, rischia di scontentare l'ala più attiva e moderatamente progressista di chi sta governando adesso a Bassano. Insomma, presentati come sintesi sono in realtà più divisivi di quanto si voglia apparire. E chi vuole cucire a centrodestra e a centrosinistra ha non poche difficoltà ancora da superare. In particolare è dai corridoi del centrosinistra che arrivano molti spifferi. Se da un lato il nome di Vernillo appare sicuro, dall'altro la presentazione non è ancora stata fatta. E la storia della politica bassanese, almeno fino a quando le liste non saranno depositate, ci dice che può ancora essere piena di sorprese. Perché il rischio rottura è tutt'altro che scongiurato, con la possibilità che da stallo messicano si passi alla sparatoria, sempre in metafora naturalmente.